Si conclude a pieni voti la due giorni dedicata ai concerti da camera alla quale hanno partecipato tutti gli studenti secondo le varie formazioni cameristiche nate all'interno delle classi di musica d'insieme del liceo musicale Alfonso Gatto di Agropoli. Soddisfatti i dirigenti scolastici Anna Vassallo e Bruno Bonfrisco dell'istituto Gino Rossivairo per la partecipazione, la sinergia e la passione che gli studenti ci hanno messo per questa due giorni di musica. Lo spettacolo di questa sera è stato davvero meraviglioso e siamo stati molto felici di poter vivere questa esperienza in pubblico e non dietro un monitor perché questo ci ha consentito di condividere le nostre emozioni perché crediamo che la musica riesca ad annullare il tempo, lo spazio, le distanze e anche le diversità e quindi riesce ad unire e a collegarci l'uno all'altro in una dimensione che possiamo dire è una dimensione di pace, di spensieratezza. In questo momento forse sono le cose di cui più abbiamo bisogno. Per il prossimo anno mi auguro un anno completamente nuovo, diverso, in cui possiamo ricominciare a vivere le esperienze scolastiche come una volta ma ancora di più attraverso la relazione, cioè implementando le relazioni tra gli studenti, tra i docenti all'interno di tutta la comunità scolastica perché abbiamo bisogno di stare insieme, di guardarci negli occhi, di toccarci e di crescere attraverso la relazione e dal vivo. Questo mi auguro per il prossimo anno, di non avere interruzioni nella nostra reciprocità. Siamo con il preside della Scuola Media Genero Estivario di Agropoli. I preside ripartono finalmente i concerti di musica da camera, sia per le scuole medie che per il liceo musical Alfonso Gatto di Agropoli. Come avete trovato i ragazzi? Erano emozionati, entusiasti a questo concerto di questa sera? Emozionatissimi. Si vedevano che tremavano, erano preoccupati. Ma perché poverini sono due anni che non fanno attività musicale insieme? Ci sono ragazzi che hanno imparato a studiare lo strumento musicale in tante. La musica si fa da live, non si fa in tante. Però loro sono stati bravissimi, sono stati bravi loro e gli insegnanti che l'hanno saputi guidare. Quindi diciamo che stasera è una ripartenza. Perché qui ad Agropoli dal 2000, quando fu approvato per la prima volta l'indirizzo musicale alla Scuola Media e poi nel 2002 il laboratorio musicale, abbiamo fatto tante di quelle attività e abbiamo tanti ragazzi laureati in musica che oggi suonano alcuni di loro anche in orchestre prestigiose. Poi dopo l'indirizzo musicale della Scuola Media c'è stata l'attivazione del liceo musicale quindi diciamo che si è completato l'iter verticale degli studi musicali tra l'indirizzo musicale della Scuola Media, liceo musicale e AFAM. Oggi i vecchi conservatori di una volta, quelle che ho frequentato io, oggi si chiamano AFAM. Grazie a tutti. Grazie a tutti.